Nome? Debora. Da dove vieni? Spoleto. Perché sei qua? Per partecipare a un progetto che è stato promosso dalla mia classe. Prima di questo forum conoscevi già la Marcia della Pace? Sì, l'avevo sentita dire molte volte. E ce l'hai partecipato? No, non ho avuto conoscenza. Non ho avuto questa fortuna, purtroppo. Cos'è per te la non-violenza? Per me la non-violenza è avere le idee chiare. Non avere i grilli per la testa, non avere bisogno delle botte, degli insulti per dimostrare di avere ragione. E' esprimersi in un modo pacifico e anche intelligente. Come si può diffondere il concetto di non-violenza nel mondo? Beh, in tutti i modi. Basterebbe un piccolo esempio, come anche un forum, tipo quello che abbiamo fatto oggi. Cioè, qualsiasi mezzo è utile. E starà mai un mondo senza violenza? Sì, dai, siamo ottimisti. Tu cosa fai per contribuire a diffondere la non-violenza? Eh, io cerco di dare un esempio magari alle persone che mi ritengono debole, magari insultandomi. E io posso reagire in un modo ben diverso da loro e così dimostrare che la non-violenza può essere applicata. Dopo aver partecipato a questo forum, la tua opinione sulla non-violenza è stata confermata o in qualche modo è cambiata? È cambiata in meglio perché io pensavo che la non-violenza fossero solo parole, fosse stare fermi. Invece ho capito che la non-violenza è ben altro perché chi vuole la non-violenza deve smuoversi, deve fare comunque una lotta. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie.